Dopo due settimane in zona rossa, la Toscana torna in arancione. Dal lunedì 12 aprile lo ha deciso il Ministero della Salute, sulla base del nuovo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità sull'andamento dell'epidemia di Covid, che ha evidenziato un'incidenza settimanale del contagio scesa a 230 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, quindi al di sotto della soglia di 250 fissata per decreto dal Governo. Il Presidente della Regione, Eugenio Gianni, ha comunque deciso di prolungare fino alle ore 14 di sabato 17 aprile la zona rossa in alcuni territori dove l'incidenza è ancora superiore a 250. La decisione è stata assunta dopo un attento confronto con i sindaci di tutti i comuni interessati, in considerazione della situazione ancora critica registrata negli ospedali toscani, dove un'altissima percentuale di posti letto è occupate dai malati Covid, soprattutto nelle terapie intensive. Rimarranno così in zona rossa fino alle ore 14 di sabato 17 aprile le province di Firenze e Prato, i comuni di San Mignato, Montopoli in Valdarno, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, che fanno parte della provincia di Pisa, ma sono compresi nella zona socio-sanitaria Valdarno e Impolese Valdelza. I comuni di Poggi Bonzi, San Gimignano, Colle Valdelza, Casole Delza, Radicondoli, compresi nella zona socio-sanitaria Alta Valdelza, in provincia di Siena. Grazie. 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 Grazie.